Presto Arnold Schwarzenegger potrebbe essere in Puglia ospite d'onore di Nichi Vendola. Il presidente della regione Puglia in America in questi giorni ha incontrato l'ex attore di Hollywood in un convegno sul clima e lo ha invitato in Puglia. Un incontro affettuoso tra loro, da governatore a governatore. Vendola ha voluto spiegare ai molti americani che ha incontrato in questi giorni il comunismo italiano diverso da quello sovietico. Un comunismo aperto agli Stati Uniti, una sinistra quella di oggi che cerca nuovi codici per affrontare le sfide come quella ambientale. Per questo il presidente della giunta pugliese ha sottoscritto nelle giornate californiane la carta degli intenti dell'R20, un network di chi non vuole restare a guardare la distruzione di un pianeta. Da ieri Vendola è a New York dove incontrerà esponenti della comunità italiana e da dove segue anche i fatti dell'attualità del paese. Ha commentato positivamente infatti l'arresto del superlatitante dei casalesi Antonio Iovine, assicurato alla giustizia, ma non ha mancato di sottolineare l'atteggiamento schizofrenico del governo che di giorno attacca la magistratura, ha detto, e di notte plaude ai suoi risultati. Nella conversazione con i professori Pasquini ed Urbinati nella casa Zerilli Marimò, nella New York University, dove si sarebbe dovuto parlare di un laboratorio per un nuovo sud italiano, si è parlato più di presente italiano che di futuro, ha raccontato ai moltissimi presenti in aula la sua visione del paese. Ha parlato della fine del berlusconismo e della necessità di voltare pagina davvero. Dalla grande mela, Vendola poi mette a tacere anche le voci dei suoi avversari, ai consiglieri del PDL, che si chiedono quanto sia costato il viaggio americano alla regione. Il governatore risponde, la regione Puglia finanzia solo il presidente senza l'addetto stampa, non finanzia gli amici che a loro spese lo hanno accompagnato e poi l'affondo in una controdomanda. Quando Fitto veniva a Los Angeles per la pacchiana cerimonia del Valentino d'Oro, quanto costava?